Un impegno a 360 gradi per ridurre l'attavico divario economico e strutturale tra il ricco nord e il povero sud è l'obiettivo del Movimento per l'equità territoriale fondato a livello nazionale dal noto scrittore giornalista Pino Aprile e coordinato a Taranto da Giuseppe Capobianco sono tanti i temi trattati dal Movimento Equità a partire dalla Recovery Fund analizzato a fondo per gli attuali criteri dell'Unione Europea che prevedono 145 miliardi per sud e isole e 64 per il nord che però producono, secondo il Movimento solo il 5% di benefici per le aree meridionali sotto i riflettori anche le disparità riguardanti la rete ferroviaria la sanità, la scuola e l'università all'incontro ha partecipato anche uno dei soci fondatori del Movimento a Taranto Giuseppe Palemburgi C'è un gap tra il nord e il sud che non riusciamo a ridurre questo perché? perché più delle volte i finanziamenti finiscono sempre al nord noi non li utilizziamo oppure se i nostri progetti vengono presentati il più delle volte vengono accantonati si aspetta la data della scadenza per non farli partire e quindi c'è questa specie di, come dire c'è questa volontà, tra virgolette, dei nostri amici settentrionali di prendere tutto ciò che noi abbiamo il fondatore, oltre ad essere un giornalista è anche scrittore di tanti libri di successo tipo Terroni, Il mondo, l'Italia è finita adesso ha fatto l'ultimo best seller che è Il male del nord dove spiega tutti i motivi di come l'Italia si è trovata come il meridione si è trovata in questo modo qui è in ritardo, un forte ritardo rispetto al nord che si è trovata in questo modo Grazie a tutti